Buon pomeriggio, ben ritrovati con il telegiornale di Udinews TV che apriamo andando subito in collegamento in esterna alla Dacia Arena dove tutto pronto per la partita di questa sera per Euro Under 21. No, c'è per noi Jacopo Romeo. Ben ritrovato Jacopo. Ciao Valentina, un saluto a te e un saluto ai nostri telespettatori. Sì, oramai ci siamo perché tra poco meno di quattro ore ci sarà il calcio inizio di Germania da Rimarca che sarà la prima partita che si disputerà nell'ambito degli europei Under 21 qui a Udine, qui alla Dacia Arena. Una partita importante per capire che piega potrà prendere questo girone, che è uno dei più equilibrati. Forse è dei tre insieme a quello che coinvolge l'Italia e quello che per valori tecnici forse si lascia preferire perché quello Emiliano Romagnolo di Cesena e di San Marino ha Inghilterra e Francia. Due squadre candidate alla vittoria finale, dunque fortissime, ma le altre due sono Romagna e Croazia. Dunque appare già abbastanza indirizzato. Qui invece il livello di competitività è mediamente più alto, meglio distribuito come valori e già Germania da Rimarca sarà una partita top perché è evidente che la Germania, campione in carica, che ha vinto due anni fa in Polonia l'ultima rassegna, parte favorita. Ma attenzione a sottovalutare i danesi che storicamente hanno fatto sempre bene in questo torneo, terzi nel 2015, ed hanno dei giocatori molto importanti, già affermati anche a livello di calcio internazionale, che hanno esperienza nelle coppe o che giocano anche nel campionato italiano. Uno di questi era una delle stelle della Rimarca, Joachim Andersen, difensore della Sampdoria, che è anche uno degli uomini mercato a livello europeo in questa fase delle trattative, ha dovuto rinunciare proprio sabato in extremis a questa rassegna perché l'infortunio rimediato col club gli ha impedito di essere a disposizione. C'è dunque al centro della difesa a suo posto un'altra conoscenza della nostra Serie A, come Erasmussen, che ha giocato all'Empoli e l'anno prossimo lo farà alla Fiorentina. Ma la stella di questa della Rimarca è Jakob Brun Larsen, che è un classe 98, gioca e bene e tanto nel Borussia Dortmund, dunque già è stato impiegato, già si è visto in Champions League, proprio in Germania, contro una squadra, quella di Stefan Kunz, tra le più attrezzate per puntare alla vettoria finale, ma che, a differenza di quanto è accaduto un po' negli altri edizioni, vede le sue vere stelle, quelli che sarebbero in età per giocare questo Europeo Under 21, già tutti coinvolti nelle rispettive nazionali maggiori. L'eroe Sané del Manchester City, Havertz, Brandt, Timo Werner dell'Ipsia, sono già tutti stabilmente dei nazionali A. E dunque si punterà su una squadra con giocatori che prevalentemente militano tutti in Germania, ma che sono già delle realtà a livello europeo, su tutti il capitano Taki ha già vinto l'Europeo due anni fa e già giocato anche gli europei dei grandi con la nazionale maggiore. Dunque, ci sarà davvero da divertirsi, si prevede un bello spettacolo, peccato che non ci sarà un'enorme affluenza di pubblico, ma c'è ancora possibilità di venire a comprare i biglietti, che sono a prezzi stracciati e strapopolari, per godersi quello che è comunque un momento importante, non solo per Germania e Danimarca, che saranno protagoniste in campo, ma per tutta la città di Udine, perché è la gara inaugurale delle tre di gironi che ospiteranno qui la Dacia Arena. E dunque, speriamo che possa essere una bella serata anche dal punto di vista ambientale e spettacolare, perché dal punto di vista degli amanti e degli appassionati di calcio, un European Under 21 vissuto comunque nella propria città, dovrebbe essere un bel biglietto da visita. Certamente Jacopo, grazie per averci presentato la gara di questa sera, vorrei anche chiederti invece un commento su quello che è stata la partita di ieri, che ha visto protagonista Rolando Mandragora, andiamo a sentire allora qual è il tuo parere, il racconto di quello che è stato l'esordio dell'Italia ieri. Beh, l'importante era vincere una partita che era una finale anticipata, non soltanto per il valore dell'avversario, ma perché questa formula molto molto selettiva, che prevede il passaggio soltanto delle prime dei gironi più la miglior seconda complessiva, imponeva l'Italia di raccogliere un bottino pieno. Abbiamo già la prima gara di ieri sera e in tal senso l'obiettivo è stato pienamente centrato con un ottimo secondo tempo e con una grande rimonta sulle ali di Federico Chiesa, che è uno dei prestiti, tra virgolette, dalla Nazionale A. Lui, Lorenzo Pellegrini, che ha siglato il terzo gol, Barella, Nicolo Zagnolo, in bocca al lupo perché è uscito anzitempo per una commozione celebrale, ma sembra che stia bene, e Moise Ken, che pur avendo solo 19 anni, già in Nazionale Maggiore, proprio qui a Udine a marzo, ha fatto vedere di che pasta è fatto. Lui ha spiccato, perché Chiesa è un trascinatore, a livello di Under 21 ha dimostrato, sta dimostrando di essere un fattore, ma c'è stata una prestazione importante anche del capitano Rolando Mandragora, che è uscito alla distanza, un po' come tutta la squadra. Magari lui ha fatto un po' quel lavoro più geometrico, più di cucitura, ma anche sporco, in fase di schermatura e difensiva, che è meno appariscente, ti balza meno all'occhio. Però è stato determinante nel suo contributo, anche e soprattutto con la sua leadership nel finale, quando prima del rigore di Pellegrini la Spagna aveva approvato, anzi stava schiacciando l'Italia negli ultimi 16 metri. È una vittoria importante, adesso l'Italia ha la chance di fare il bottino pieno contro una Polonia, ma guai a sottovalutare la Polonia, che a sorpresa ieri ha battuto il Belgio, che è formazione di assoluto livello. Dunque, anche lì, parlavamo di un girone molto equilibrato, quello che prevede anche qui in Friuli, Austria e Serbia, che si affronteranno nel 18.30, ma quello dell'Italia anche per valore e nome dei giocatori, tra Italia, Spagna e Belgio, è un bel raggruppamento. Grazie, grazie per questi dettagli e per essere tornato anche sulla gara di ieri, che ha visto come protagonista Rolando Mandragora. Torneremo a parlare di sport, per la precisione, di motori, nell'ultima parte del nostro notiziero. Adesso invece passiamo alla cronaca, c'è stato questa mattina un piccolo incidente in A4, un tamponamento, ci sono state code al casello di Palmanova, che è stato chiuso, lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Palmanova, appunto, è stato chiuso in mattinata e poi riaperto fra il Bivio A423 a San Giorgio, verso Venezia. Al momento ci sono ancora code, lo vedete dalla grafica, ci sono appunto ancora code sulla A4, da Palmanova fino a Gonarse e anche oltre, proprio per traffico intenso. e si stanno appunto spostando anche queste code, perché prima erano più nel tratto fra San Giorgio e la Tisana, adesso invece fra Palmanova e San Giorgio, sempre in direzione di Venezia, traffico quindi ancora rallentato e difficile. Passiamo agli interventi dei carabinieri che sono intervenuti, che si sono appunto interessati di diverse situazioni nelle ultime ore, parliamo di un intervento a Tarcento, dove sono stati chiamati da un proprietario di un pollaio situato fra alcuni vigneti nel Tarcentino, che ha denunciato come i gnoti si fossero introdotti all'interno di questo pollaio e avessero ucciso tutti gli animali che erano presenti all'interno. In effetti i carabinieri hanno verificato la circostanza e hanno raccolto appunto la testimonianza dell'allevatore che ha anche detto che un caso simile era già capitato in passato. Invece a Lignano i carabinieri hanno individuato un 24enne di Udine come l'autore di un furto di alimenti e bevande in un esercizio pubblico della zona tra la notte fra il 15 e il 16 giugno, quindi fra sabato e domenica. Aveva scassinato una porta, si è introdotto all'interno dell'esercizio pubblico, ha rubato poche decine di euro di alimenti peraltro ritrovati e restituiti al proprietario e è stato denunciato in stato di libertà per furto in esercizio pubblico un 24enne di Udine. A Faedis invece i carabinieri di Faedis hanno raccolto la denuncia di un 55enne di Cividale che è stato truffato dopo aver provato ad acquistare un prodotto online. I carabinieri hanno individuato una 31enne residente nella provincia di Foggia che appunto aveva pubblicato il pezzo di un ricambio di un'auto su un sito e dopo aver ricevuto la somma di 600 euro da parte delle 55enne di Cividale non ha poi corrisposto il prodotto ed è stata denunciata in stato di libertà per truffa. Invece una ragazza e un suo amico sono stati soccorsi dal 118 dopo che la festa di compleanno della ragazza è finita male perché per l'abuso di sostanze alcoliche entrambi si sono sentiti male e sono dovuti intervenire i carabinieri anche appunto il 118 che ha soccorso la giovane portandola all'ospedale di Palmanova. I genitori appunto sono poi intervenuti e hanno accompagnato i due. Un ministro egiziano, cambiamo pagina, ha accreditato l'ipotesi che Giulio Regeni sia stato torturato e ucciso in un caso di criminalità e quanto emerge dal sito al Bavaba che sintetizza dichiarazioni fatte dal ministro del lavoro egiziano alla centottesima sessione della conferenza internazionale del lavoro in corso a Ginevra. In risposta a quanto evocato da alcuni a proposito dell'omicidio dell'accademico italiano Regeni il ministro del lavoro ha detto che questo caso è di natura criminale e deve essere trattato attraverso la procura generale egiziana e la sua omologa italiana. Safan ha sottolineato che si tratta di un omicidio ordinario che sarebbe potuto accadere in qualsiasi stato come gli omicidi di egiziani in Italia o quelli di qualsiasi altra persona di qualsiasi altra nazionalità. Così il sito egiziano. E adesso torniamo a Udine dove la giunta comunale ha approvato una serie di nuovi interventi per sistemare o realizzare ex novo dei nuovi marciapiedi nel rispetto delle esigenze con persone portatrici di disabilità oppure anziani e mamme. Con i passeggini è stata approvata una delibera che prevede un finanziamento di 500 mila euro e altri 500 mila verranno destinati a breve per un ulteriore lotto. Sentiamo il vice sindaco Lores Michelini. Abbiamo deliberato proprio oggi la prima tranche del rifacimento o la creazione di nuovi marciapiedi in città. Sono 500 mila euro. Abbiamo già realizzato i progetti internamente anche con l'aiuto degli adetti alla mobilità. Vado a dire l'elenco che fosse la cosa più importante che interessa i cittadini. Via Valleggio, via Mameli, via Morosina, via Foni di Sotto, via Mantua, via Gorghi, via Villalta, via Volturno, via Gabelli. Poi abbiamo via Cormoralto, via Martignacco, via Badasseria Media, via Molini, via Pieri, via Dante. Il gruppo a parte. Poi c'è un altro gruppo che partirà la prossima settimana di altri 14 marciapiedi che però hanno la particolarità che una parte deve essere spropriata in quanto va a colpire una careggiata mista a pubblico privato. Quando si prevede la realizzazione di tutti questi interventi e la conclusione? Allora, mentre stanno già lavorando su alcuni tratti, per esempio via Dante, via Pieri, eccetera, c'è un secondo lotto che è già partito e quindi verrà realizzato a breve. Questi qua, questo gruppo qua, di questi marciapiedi, adesso partirà la gara d'appalto, tempo a due mesi, inizieranno i lavori perché dobbiamo terminare entro fine anno sicuramente. Entro fine anno prevedete dunque di realizzare circa 35 marciapiedi? Sì, più quelli nuovi che verranno realizzati col secondo lotto che andavano a approvare la prossima settimana che sicuramente inizieremo ma non termineremo entro la fine dell'anno perché presuppongono una parte di espropri. Stiamo progettando altri 60 marciapiedi che riguarderanno il prossimo anno. In occasione del convegno promosso a Muzzana del Turgnano sul futuro dell'edilizia in regione, il governatore Fedriga ha parlato della semplificazione a cui si arriverà grazie al progetto di legge numero 26 che darà vita a un sistema dedicato al Friuli Venezia Giulia. Grazie al progetto di legge 26 prenderà vita un sistema Friuli Venezia Giulia in grado di ragionare in un'ottica d'insieme per sviluppare in primis nei comparti edilizia, turismo e ambiente azioni sinergiche contando sulla semplificazione burocratica. E quanto ha annunciato oggi a Muzzana del Turgnano il governatore Massimiliano Fedriga partecipando al dibattito sul futuro dell'edilizia in regione ospitato dall'azienda Zanutta. Dagli uffici della regione a tutto il territorio, ha spiegato Fedriga, è il momento di guardare in prospettiva perché se tutti lavoreremo nella stessa direzione si otterranno ottimi risultati. Con la forte semplificazione messa in campo con il progetto di legge 26, chi vuole operare a piccoli ma utili interventi strutturali non sarà disincentivato né tantomeno bloccato. Il governatore ha quindi citato le ingenti risorse, oltre 55 milioni di euro stanziate per l'edilizia, inclusa quella legata al turismo. Mi auguro che le nostre iniziative, affermato, possano garantire nel breve periodo un ritorno in termini di crescita e occupazione in quanto le scelte messe in campo, comprese quelle fiscali i cui effetti si vedranno a medio-lungo termine, in un Friuli-Venezia-Giulia sempre più importante nello scacchiere europeo, sono mirate a contrastare la stagnazione dell'economia continentale per dare prospettiva ai cittadini e imprese. Questa mattina è inaugurato all'ospedale Santa Maria della Misericordia un'informazione che sarà gestito da ex pazienti pronti ad aiutare nuovi ammalati. Diverse le associazioni del territorio che hanno messo a disposizione, i propri volontari, tutte persone che hanno già attraversato medesmi percorsi salvavita, pronti a fornire consigli utili ricavati dal loro percorso di guarigione. Assessore, quest'oggi a Udine si apre questo sportello, forse una cosa innovativa, uno sportello fatto per pazienti, con i pazienti. Bellissima iniziativa. Noi in campagna elettorale abbiamo anche messo il nostro programma di poter dare la sede delle associazioni dei pazienti all'interno dell'ospedale, magari in uno dei padiglioni che verranno dismessi. Questo attualmente non è ancora, da un punto di vista pratico edilizio, questo non è possibile, però questo è sicuramente un passo fondamentale che può portare verso quella direzione. Io sono particolarmente contento di essere qua, ho ringraziato il sistema del volontariato che ci aiuta ad aprire la porta delle nostre strutture sanitarie per raccontare quello che non funziona in maniera di poter riuscire a rimediare, ma ho auspicato anche che ci possano raccontare le tante cose che funzionano. Oggi pomeriggio sarà impegnato in giunta in comune proprio per la sanità, anche lì si chiedono risposte per quello che è l'emergenza del personale. Sì, guardi, però il tema del personale è uno dei temi, il problema è il modello organizzativo che deve cambiare rispetto a un modello di società che chiede bisogni e presenta bisogni completamente diversi. Noi siamo una società dove nel 2018 sono nate 8.200 persone e sono morte 14.500. Il 26% dei nostri cittadini ha superato i 65 anni e in ospedale per fare un'operazione quando decine di anni fa si stava dentro un mese, oggi si entra la mattina e ascesse il pomeriggio. C'è un bisogno che va affrontato di cronicità che deve trovare risposte molto più fuori dalle strutture ospedaliere che dentro. E torneremo a parlare di sanità anche all'interno del nostro notiziario delle 19. Adesso invece diamo uno sguardo all'Italian Bahia che è stata presentata a Fiume Veneto, una gara del Mondiale di Cross Country che si terrà dal 21 al 23 giugno. È stata presentata l'edizione 2019 dell'Italian Bahia. La terza tappa della Coppa del Mondo FIA Cross Country Bahias si terrà dal 21 al 23 giugno tra le province di Pordenone e Udine in uno scenario d'impatto. I 56 equipaggi iscritti a questa gara di fuoristrada si daranno battaglia su gretti di Meduna, Cosa e Tagliamento, tracciati pronti ad accogliere i protagonisti con una piena d'acqua dopo settimane di pioggia a maggio e lo scioglimento delle abbondanti nevicate. C'è un percorso molto bello, avvincente, ricco di acqua perché dal territorio nostro ha queste caratteristiche e secondo me lo spettacolo che faremo a Pordenone sul gretto del Tagliamento e a Lignano venerdì sera sarà una cosa unica nel suo genere, quindi ci saranno delle belle cose. Secondo il mio punto di vista, poi sarete voi a valutare queste cose, ma vi invito ad andare a vedere sul Tagliamento a Lignano venerdì sera e poi la seconda presentazione sabato sera a Bruniera e vedrete che ci sono grandi belle cose. Domenica alle 14.30 in Fiera a Pordenone per la premiazione stile Formula 1 come ci hanno suggerito i grandi della Formula 1. Io consiglio di andare a Valvasone, al Valvadrom, consiglio di andare magari nella zona di Spilimbergo, consiglio di andare sul torrente Cosa, ci sono vari ponti e vari argini dove in assoluta sicurezza si può vedere gran parte del tracciato di gara. E' molto difficile, lo sappiamo, andare a vedere proprio come si fa nei rally a bordo pista perché questa è la caratteristica del cross country, ma se soltanto guardate le immagini che so della Dakar o di altre manifestazioni di questo genere non vedete mai tanto pubblico assiepato a bordo strada come capita nei rally. Questa è la caratteristica del cross country, però stando in alto e chi è privilegiato con l'elicottero vede uno spettacolo meraviglioso. Ma ci saranno le immagini, ci saranno i droni, le immagini fatte con l'elicottero che comunque stando in fiera ci potranno vedere. Prima di salutarci diamo un'occhiata a quello che è successo quest'oggi in Italia e anche all'estero. Travolta dalle polemiche arriva dalla Cina il sostegno alla governatrice di Hong Kong, Carrie Lam, invitata a lasciare l'incarico dal movimento di protesta che sta attraversando da giorni il governatorato con manifestazioni oceaniche contro la legge sulle estradizioni in Cina. Almeno otto persone sono morte nell'ennaufraggio di un gommone carico di migranti nel mare Geo a largo di Bodrum e salvate 31 persone. Intanto sei migranti sono sbarcati sulle coste sarde, i sei, tutti uomini, sono stati trasferiti in un centro di accoglienza. L'Unione Europea ha un tempo limitato per adempiere ai suoi obblighi nelle quadro dell'accordo sul nucleare ed è meglio che si assuma le sue responsabilità nel poco tempo rimanente, altrimenti l'intesa crollerà, così il presidente iraniano Rouhani incontrando il nuovo ambasciatore francese Thiebaud. L'India passa al contrattacco. Dopo aver perso l'accesso preferenziale al mercato americano, New Delhi impone dazi su 28 prodotti made in USA, dal miele alle mandorle, dalle mele ai ceci. Le nuove tariffe gettano un'ombra sui rapporti fra Stati Uniti e India che di recente si sono rafforzati per bilanciare l'influenza economica e militare cinese in Asia. E mostrano come la guerra commerciale avviata da Trump stia ormai dilagando ben al di là della Cina, il fronte più spinoso e difficile con cui Trump è alle prese. L'annuncio del Ministero del Commercio indiano precede l'attesa visita del segretario di Stato americano Mike Pompeo che sarà in India poco prima delle G20 del Giappone, dove è in programma un incontro fra Trump e il premier Narendra Modi. Le autorità indiane spiegano che i nuovi dazi sono necessari nell'interesse pubblico e che si tradurranno in maggiori entrate per 217 milioni di dollari. Una cifra irrisoria rispetto ai 6 miliardi di dollari di prodotti indiani che non potranno più entrare duty free negli Stati Uniti. Siamo in chiusura, vi do appuntamento a più tardi, nuova edizione in diretta alle ore 19. A dopo. Siamo in chiusura, vi do appuntamento a più tardi,